Chiara Ferragni è il nuovo piano strategico per superare il momento negativo. Ma prima di raccontarti la nuova strategia che sta attuando Chiara Ferragni per superare il disastro mediatico dei Pandori, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie! Il profilo Instagram di Chiara Ferragni, seguito da 29 milioni e 500 mila follower, resta silenzioso da oltre una settimana dopo la multa inflitta dall'antitrust e la controversia legata ai prodotti sponsorizzati. Mentre il marito Fedez condivide video con i figli, Chiara ha scelto una strategia di basso profilo online. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, dietro le quinte sta prendendo forma un piano d'azione mirato a ristabilire la credibilità dell'immagine e del marchio Ferragni. Chiara Ferragni sembra aver preso decisioni significative per affrontare la situazione. Ha ingaggiato uno studio legale di alto profilo, lo studio Gianni e Origoni, per le questioni legali, societarie e civilistiche. Inoltre, ha coinvolto l'avvocato Marcello Bana per affrontare gli aspetti di diritto penale. Per quanto riguarda la gestione dell'immagine e della reputazione online, Chiara si è affidata all'Agenzia di Comunicazione e Web Reputation Community guidata dal CEO Auro Palomba. La strategia comprende il mantenimento di un basso profilo sui social media, con zero aggiornamenti e comunicazioni online, fino a quando il piano non sarà completamente attuato. L'obiettivo principale è contrastare il calo di immagine e difendere le sue aziende, salvaguardando i contratti con importanti brand internazionali come Pantene, Pigna, Morellato e Nespresso. Finora, solo Safilo ha annunciato l'intenzione di interrompere la collaborazione avviata nel 2021 per la produzione degli occhiali del marchio Chiara Ferragni. Mentre il marito Fedez ha recentemente condiviso la sua vita quotidiana, Chiara Ferragni ha scelto di restare in silenzio, ma non ha abbandonato la sua residenza a City Life, Milano. L'articolato piano strategico che sta mettendo in atto rivela la determinazione dell'imprenditrice digitale nel gestire una delle crisi più significative della sua carriera. Resta ancora da vedere come si svilupperanno gli eventi e come Chiara affronterà il nuovo anno.